Maurizio Brucchi investe, come giusto che sia, di chirurgo in questa bella giornata dell'ASR presente. Ma sì, assolutamente, questo è comunque una giornata positiva perché 130 nuovi assunti per personale infermieristico, OSS, è utile a queste aziende, è in un momento sicuramente di difficoltà, usciamo fuori da un accorpamento estivo, anche per carenza di personale infermieristico, c'è un concorso per quanto riguarda la chirurgia in atto per chirurghi, insomma c'è bisogno di personale, la buona sanità è vero che la fa la struttura, un ospedale nuovo che spero arrivi presto, ma è vero e soprattutto che la fanno medici ed infermieri che sono poi quelli che fanno la vera sanità. A proposito di nuovo ospedale, lei è stato sindaco e avrà sicuramente ascoltato anche le dichiarazioni del nuovo sindaco, questa sorta di opposizione che si regge da qualche parte, come la legge? È un errore, è un grave errore, l'ospedale nuovo per acuti è necessario, ci troviamo in una struttura che oramai ha tanti anni, che ha anche problemi da un punto di vista di quelle che sono le regole, soprattutto relativamente al terremoto, c'è lì un indice di vulnerabilità molto basso, ci sono tutta una serie di situazioni e di fatti negativi che portano a che si faccia il nuovo ospedale. Il nuovo ospedale vuol dire anche una migliore compliance per il paziente, insomma vuol dire tante cose, quindi assolutamente è necessario, sarebbe un gravissimo errore non fare il nuovo ospedale, mandare questi soldi da qualche altra parte, perché se non li spendiamo noi ci sarà sicuramente qualcuno che li spenderà. Riqualificare il vecchio a suo parere sarebbe inutile, insomma, meglio il nuovo? Io dico da ex amministratore che i costi sarebbero assolutamente molto superiori, non raggiungendo l'obiettivo, ripeto, noi non dobbiamo dimenticare che ci troviamo in una zona sismica 2, che ha dei parametri e dei presupposti ben precisi, quindi l'ospedale che deve essere la struttura più sicura li deve rispettare e non credo che con questa struttura, pur facendo lavori importanti, si riesca a raggiungere quei livelli, per cui l'ospedale è nuovo, ma per tutta un'altra serie di motivi. La cosa importante è che si faccia nel territorio della mano.